I Presidenti, gli accompagni tutti, io direi che anche il Presidente magari gli accompagna, giusto? Presidente e Vicepresidente vi accompagna nella spiata bene con questo raggio di sole che è speranza per tutti quanti voi felicità e gioia signori io Gianni apro ufficialmente la prima giornata di Niamo OV 2017 a tutti quanti voi ciao grazie 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 2017, Milano Open 2017 che nasce grazie alla VDC, grazie al Consiglio regionale, anche la regione Lombardia che vado a presentarvi nelle figure del Presidente Federico, Vicepresidente del Presidente Paolo, Secretario Garibaldi Paolo, Consiglietti Quirata, Guzzi Daniele, Ex-Sugietto, Moderna Daniele e Cono Antonio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.